Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi siamo qui su Fortnite per fare Only App Passa, io non ce la faccio più eh, oh mi arrabbia adesso non trovo pure Only App per quanto sono arrabbiato Dov'è mio cavolo è Only App, mannaggia che mi avevo dimenticato di preparare, no eccolo Mannaggia che gioco maledetto, sì quindi siamo tornati su Fortnite ovviamente con Only App Se no scusa, che video sarebbe? No cioè è ovvio Only App dobbiamo fare su Fortnite e basta, e basta Volevo avvisarvi soprattutto una cosa, cioè soprattutto di una roba Potrei magari domani andare in un certo posto chiamato Copenhagen In Danimarca, quindi farò tantissimi shorts e andrò pure se non sbaglio in Svezia raga Quindi, comunque Zlatan ci sarà lì, tutto bello, c'ha Aldone, ah che bello Zlatan Forza Milano infatti, logo sempre rosso e nero ovviamente Comunque vi volevo dire che ho anche aperto il mio profilo Instagram Che si chiama Diego.C. No scusami, sono stupido, indio Diego.C. Cuore rosso e nero, rosso e nero e cuore ancora rosso e nero E riuscirà, ho 270 follower tipo, forse 80, non mi ricordo ma Circa 200, come fieno, 200, ah che bello Quindi vabbè, seguitemi pure su Instagram Però pensiamo adesso a sto gioco Adesso ce la farò, fidatemi raga Perché non sono, a proposito, perché non sono con i miei amici belli Perché non sono online, non li faccio vedere Eppure, cioè, c'è un mio amico online ma si sta a guardare YouTube Ma non è meglio lui Però, che ci possiamo fare se lui vuole guardare YouTube? E poi, visto che oggi è il 21 settembre, almeno che sto facendo il video Il 27 settembre sarà il mio compleanno Il mio compleanno Non ho capito, quindi ogni anno ho un buco nel cu in più Il compleanno Ok, meno male Quindi, raga, vogliamo intenzione, tipo, alla sera Ah, basta Di fare, tipo, un video o un live Scrivetevi nei commenti che cosa volete, ok? Pensiamo a questa cosa Noi dobbiamo arrivare alla season 2 Ce la faremo? No Ovviamente, ma non ce la faremo mai nella nostra vita Che poi, raga Al mio compleanno, forse Avrò delle scarpe della Nike Scrivete, raga Tipo, scrivete sotto l'opzione Allora E O Jordan Allora, no, aspetta Ve le dico tutte e quattro Perché sono qua La prima Air Force One Poi Jordan 1 Chicago Poi TN bianco Quelle bianche rosse Che non mi ricordo adesso come si chiamano E poi Le Jordan 4 militare black Che non avrò mai, penso Però, vabbè Tanto sarò un povero E avrò le Air Force One Non mannaggia Ok Non vale Oppure se me le devono proprio dare Saranno tarocche Scommetto su tutto Eh, vabbè La vita è così Quindi, raga 27 settembre Vi ricordo Il mio compleanno A proposito A proposito Di compleanno Questo Quello di Fortnite Buon compleanno Forse Dopo un compleanno Forse Vabbè La faccio Fegare Quindi Mannaggia Salto Ok Quindi Poi Beh Faremo appunto Farò tanti shorts Forse Anche si vedrà L'aurora boreale Che state su Google Tipo Una Immaginatevi Nel cielo Una fascia verde Di stelle Che figata È una roba Bellissima Forse Cioè Almeno Credo Poi ci sarà Penso La sirenetta Lì come Ragazzi si chiama Sirenetta Di Kopenhagen Poi in Svezia Non so C'è solo Ibrahimovic In Svezia Poi Che cosa c'è Di altro A parte Ibrahimovic Le case E poi Basta Ma In Svezia C'è solo Ibra Ibra Is the boss In Svezia Che poi purtroppo Potevo fare La foto Tipo con la statua Di Ibra Solo che l'hanno tolta Tre anni fa Quella di Quella di Ibra A Malmo Quindi Oh Ma Ma De Ok Non vi faccio domande Questi sono Bugs Se voi A proposito Raga Voi avete ricevuto Una Skin Gratis Scrivetelo Nei commenti Che non mi ricordo Adesso come si chiama Perché sono Uno smemorato Ma la noma Di quelli Incredibili Che Praticamente Tipo Dovevi fare Un riavvio La riscossa Non mi ricordo Adesso Ti Oggi ti davo Una skin Gratis Io non ce l'ho avuta Mi sa che non l'ho fatto Eh vabbè Iscrivetevi Iscrivetevi Nei commenti Chi l'ha avuta Eh Chi l'ha avuta GG E chi non l'ha avuta Eh Si attacca Come me Vabbè Intanto raga Siamo alla piscina Ti devo dire E adesso Andiamo Al farro Yeah Vai 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 Aspetta Si vola Non posso dire L'altra parte Molto brutta L'altra parte Si vola Per due E poi Si vola Per tre Allora Allora Siamo vicini Non siamo lontani Siamo vicini 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 Siamo Ovviamente Però Devo cadere Che bella Quanto ne godo Di cadere male Vai Perfetto Mamma mia Che c'ha donne Ma neanche il cavolo Ma neanche Ma neanche Vai 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 Ma neanche Niente Niente Sono caduto male Vai E si Li fa da capo Mannaggia Il cavolo Vai Qui Vai Vai Ma neanche il cavolo Corso Ah Che palle Vai 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 Mamma mia Ma il talento questo ragazzo E' un fenomeno E' un fenomeno E' un fenomeno Oh my god Questo ragazzo ha un talento straordinario Cioè è incredibile un talento straordinario E' un talento straordinario Pazzisco Un' controle potentissimo E stravegliante Vabbe Allora vai 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 Oh Occhio guardate manca poco ok perfetto ma è easy ma è easy è easy io non me la voglio rischiare cioè non voglio rischiarmela quindi me la vado qua me la cillo easy e si vola stando attenti qua siamo ai dannati tubi vediamo ovviamente con tutto il mio cuore mamma mia vai ok 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 guardate siamo in alto ok calma adesso adesso calma aspetta mannaggia u ui u ua ui 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 oh ma no ok 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 Ok, vai, it's ok, mamma mia, ok, piano piano, adesso vuoi vedere che cado, andando subitissimo alla fine, mamma mia, mamma mia, che chad che io essere, oh che bello, vai, uno, due, tre, che bello, vai, vai, Izzy, Izzy, da chi siamo nella season 2 ancora? Mamma mia, season 2, let's go, vai, vai, let's go, vai, season 2, e vai, vai qua, no, aspetta, dobbiamo andare qua nella casa, Occhio raga qua, che sono caduto qua, se non sbaglio, quindi teoricamente dovrei aver fatto quasi il mio record, teoricamente, tutto manca ancora di, oh no, 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 ok, piano, con calma, con calma, mamma mia, Sono arrabbiato Sono arrabbiato, si vede che sono arrabbiato, 12 minuti di drag, mannaggia, ancora mancano 17 minuti, devo fare ancora, no, che padre, però ce la faremo, noi ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo, Non, 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 non adesso ogni salto dico perfect perfect perc perc sto incovionendo raga Perfect perfecto basta adesso e siamo ancora qua? io voglio arrivare a quello yacht di mida molto chad vai così e mannaggia al tavolo e niente mannaggia mannaggia allora mi sto triggerando io ah perfetto vai 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 uh I like I like I like I don't like e qua I don't like I don't like I don't like I don't like questo momento e che cazzo vai 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 evviva sono felice ok ok siamo adesso praticamente sicuramente ai tubi citto vai 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 Buga Bunga Vai Si Che c'ha Vai 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 Perfetto Ho detto perfect Occhio Ok siamo Ai cosi Brutti I dubbi Ancora qua siamo Io non ce la posso fare Vai 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 Allora Iiiii Quanto manca guardano gli ox Che bello E' la madonna E' la madonna Vai V V A B C D Mok E' una lettera Mok Va bene Vuol dire napoletano A Fangull Ok Ok Pronto Perfetto 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 Adesso sto zitto Vediamo se ce la faccio Ah no vediamo vediamo E' la madonna Quanto la fai niente Tanto sono abituato Tanto sono abituato Adesso faccio la scorciatoia Vai Ui Ui no Perfetto Perfetto Vai Allora Ce la farà il nostro Giovene eroe E' la madonna E' la madonna E' la madonna E' la madonna Sembrava impossibile E' invece E' invece Salto su me stesso Ok Vai Si vola Sembra che bella la zipline Buggata Cosa erano le vecchie zipline Del capitolo 2 Boh Che non lo so No Ok Uh posso fare un trick Però tanto cazzerei Quindi voglio provarci lo stesso E niente Mannaggia Vediamo se riesco a rifare la roba Vediamo Oh Ok Vediamo 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 Si ma Si ma se mi rimaste indietro Io voglio andare Avanti Avanti voglio andare Perché non Perché Perché indietro Perché Che senso ha Ma andare indietro Io non voglio andare indietro Avanti Perchè mezzo schifo Nella Mia vita Ma 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 che cazz Perché non muoto Non muoto Ma 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 Va bene No Adesso la voglio ripare Che cavolo Ah ragazzi Se volete mettere Tipo il piccone Nelle mappe C'è pickaxe qua Ok Pickaxe Vai Mamma Ok Ok Adesso Adesso Ok 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 Ce l'ho fatta Uga Bunga Vai Vai Erbida La pazienza Che palle Si può dire Che palle Si può dire Siamo a 150 iscritti Siete tutti di chad Ok Quindi se volete essere di chad Iscrivetevi al cannuale Mannaggia Io non ho parole No Allora Palle Vai 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 me la sto facendo tutto sprintato raga vai 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 oh damn dai adesso ci la facciamo vai 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 ma damn perchè nuoto dove vorrei cadere papi che contra babububu che padre qua perchè nuoto tutto il contrario sta mappa come il suo creatore tutto il contrario è annaggia no no adesso devo fare la mossa della zizza e anche babbaro vedi 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 che ti porta indietro ma porco schifo sono 25 minuti raga ultimi 5 minuti resisto tranquilli io resisto 5 minuti resisto perché siamo al 25 di rec io resisto che sono un chad vai 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 ciao pesce secco vai 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 mannaggia come cavolo è possibile io non lo so c'è veramente oh mannaggia ho sbagliato la traiettoria mannaggia il bello che dobbiamo almeno arrivare a season 3 o season 4 del capitolo 2 cioè non è infattibile questa cosa non è infattibile cosa lo vengono farmi no eh ah sono caduto dall'albero quando si ricerco per quando si stupi ah ma mamma sembra che sei caduta dall'albero eh sono caduto dall'albero però su fortnite vai ma mia giro let's go vai ma mia oi 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 perfeccato excelente strabiliante monstruosa ma strabiliante vai oi 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 vai uomo vai uomo forza danny la zalin quando si 27 minuti ci recco donazione mannaggia aspetta dai ancora abbiamo 3 minuti 3 minuti sono pochi ce la facciamo? si perchè no tanto è poco 3 minuti pochissimo meno di meno di un'arancetta è proprio far schifo tra minuti non so perchè ho detto meno di un'arancetta però va bene livello 142 pure si libere che bella oggi il gioco proprio mi vuole bene mi vuole benissimo che serenità che serenità ah perchè ti devi arrabbiare con questo gioco mi trovo in fondo fa il suo dovere farti scelerare e farti urlare le divinità suine vai con calma che tanto poi dopo perdo uuuu 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 ok poi vedo ciao pesce secco sei nudo uuuu guardate queste zippe non buggate faccio adesso un trick che tanto non mi uscirà mai nella vita appunto ecco eccolo ecco 29 minuti quasi 57 58 59 ultimo minuto dai raga ce la posso fare dai 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 che cavolo adesso mamma mia tiro le robe brutte se cava eh mamma mia si 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 mi va mi va male il controllo che culo semplicemente che culo l'ultima roba però voglio fare il trick 29 e 40 secondi finalmente posso chiudere quindi raga spero che il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale mettete la campanina per supportarmi ah no anche seguitemi su instagram lasciate un bel mi piace e ciao belli ti mi